Nuovo ritrovamento nella piena di Lamezza Terme di tre piantagioni di canapa indiana da parte della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle, con l'ausilio del comparto aereo, hanno scoperto nella zona boschiva di località Mitoio, zona dove erano già state scoperte altre piantagioni, 266 piante dall'altezza variabile compresa tra il metro e mezzo e due metro e mezzo. Iniziata la non facile missione via terra per via della fitta vegetazione, i finanzieri hanno raggiunto i tre siti dove hanno scoperto anche un complesso sistema di irrigazione, creato in modo da non dover continuare a provvedere all'innaffiamento delle piante, regolato da temporizzatori elettronici. Dopo la campionatura, le piante che una volta giunta a maturazione avrebbero fruttato agli spacciatori circa 200.000 euro, sono state distrutte.